Moto Days dal 6 al 9 marzo e ci sarà anche mototurismo con Days on the Road, vero Tiziano? Certo, anche mototurismo con il padiglione dedicato al turismo in moto Days on the Road dove il pubblico potrà accogliere con entusiasmo i grandi viaggi, i viaggi possibili in Italia, in Europa, nel mondo perché Days on the Road è proprio il momento per conoscere quali sono le proposte dedicate a chi viaggia in moto ormai le persone che viaggiano in moto sono tantissime, non è più una nicchia ma sono milioni di persone sia per vacanza e quindi in Italia, all'estero e quindi è un'occasione molto importante è giusto dare qualche dritta a questo mondo che si muove assolutamente, è il posto giusto per avere le dritte Quindi noi vi aspettiamo presso l'area di mototurismo ovviamente a Roma, Moto Days dal 6 al 9 marzo